Ciao a tutti, mi chiamo Ruggero Longoni, vengo da Milano, mi occupo di organizzazione, formazione e selezione all'interno del gruppo Sapio. Sono venuto a conoscenza dell'Accademia PNL dei relativi corsi da alcuni colleghi e l'anno scorso e quest'anno siamo riusciti a organizzare per alcune funzioni aziendali degli specifici corsi direttamente in azienda. Ho partecipato a corsi di formazione tenuti dall'Accademia PNL che mi hanno permesso di ottenere significativi obiettivi e risultati sia dal punto di vista professionale sia dal punto di vista personale. Pertanto consiglio a tutti di partecipare attivamente ai corsi che l'Accademia svolge i tini. Arrivederci a tutti, ciao!